Velocemente è il turno di Bonny Acclamation, Silver Mezzusa che si avvicina alle gabbie. Riprova Bonny Acclamation che resta su un quinto posto nella prova della Fegentri del 20 marzo a San Rossore con l'Amazon americana Zoe Leif-Valvo in sella. Ora entra Bonny Acclamation alla gabbia numero due, mentre la gabbia numero uno prende posto Silver Mezzusa. Si va agli ordini dello starter ed è partita la quinta da San Rossore, una vendere per i quattro anni ed oltre sui 1800 metri. Subito Bagar per il comando delle operazioni con Iris Dea che ripiega in terza posizione, Silver Mezzusa che vuole andare in vantaggio respingendo anche l'insidia di Nunnale, Iris Dea è terza, quarta o a qualche lunghezza Bonny Acclamation a precedere il resto della compagnia. Silver Mezzusa con decisione e spavalderia in avanti, attacca la retta di fronte dal leader seguito da Nunnale. Qualche lunghezza di buco e poi si trova Iris Dea a precedere gli altri che sono Clarissa Vert all'esterno di Bonny Acclamation e Cielo Rocco che chiude il gruppo. Una coppia bene avanti agli altri ed è formata da Silver Mezzusa e da Nunnale. Poi Iris Dea che ha lo scomodo ruolo di elastico, cerca di riportare sotto il gruppo che è composto da Bonny Acclamation, Clarissa Vert e Cielo Rocco richiesto dal suo fantino. Cavalli che stanno percorrendo la piegata conclusiva, Silver Mezzusa ancora in chiaro vantaggio, entra per primo in retta d'arrivo a 500 scarsi dalla conclusione. Andrea Mezzatesta inizia a sollecitarlo, Nunnale è secondo, avvicinato all'interno da Bonny Acclamation che ha superato Iris Dea, poi Cielo Rocco, Clarissa Vert staccata in coda. Bonny Acclamation va alla caccia di Silver Mezzusa, poi Nunnale, Iris Dea e gli altri. Bonny Acclamation è all'esterno di Silver Mezzusa, l'attacco di Bonny Acclamation, Silver Mezzusa che prova la difesa, Silver Mezzusa respinge Bonny Acclamation, quindi Nunnale e Iris Dea. arrivo combattuto e vedremo se regolare o meno, Silver Mezzusa che respinge Bonny Acclamation, così sul traguardo vince il numero 8, Silver Mezzusa, Andrea Mezzatesta, secondo l'1 Bonny Acclamation, terzo il 7, Nunnale a precedere gli altri. ecco anche l'arrivo ripreso dalla camera a rivet, 8, 1, 7, questo è tutto per il momento, per la quinta corsa da San Rossore. e uno ha detto nulla ma... ecco anche l'arrivo ripreso dalla camera a rivet, Grazie a tutti.